Se hai un piccolo canale starai cercando disperatamente di capire come aumentare le visualizzazioni, come far andare virale un video, come convincere le persone a cliccare sul tuo video. Innanzitutto credo che tu debba smettere di sperare in un video virale, è una cosa molto poco realistica, ci vuole un gran colpo di genio o un gran colpo di fortuna. La strategia che ti spiego oggi è invece mirata ad aumentare le visualizzazioni su tutto il tuo canale, aumentando la base media delle visualizzazioni di tutti i tuoi video. Se mediamente ad oggi tutti i tuoi video fanno 50-100 visualizzazioni, pensa se tra qualche mese ne facessero tutti 300, 400 o 500. Sarebbe un piccolo guadagno per il singolo video, ma un grande guadagno per tutto il canale, sommando le visualizzazioni di tutti i video. È un metodo di lavoro più sostenibile, che non si basa sull'avere un unico video che funziona, ma sul diventare un punto di riferimento del tuo settore. Questo sarebbe un canale che fa tornare le persone a cercare i tuoi video, una destinazione obbligata per chi cerca informazioni sul tuo argomento. Ed è proprio quello che ho fatto io con ben due canali YouTube. Il primo canale si chiama Miss Meeple, è il più grande canale italiano dedicato ai giochi da tavolo, sono ormai un'istituzione in quel seppur piccolo settore. So bene che tutti i giocatori che mi conoscono quando comprano un nuovo gioco prima di imparare le regole si chiedono chissà se Miss Meeple ne ha già fatto un video. Lo dimostra anche il fatto che la parola chiave con cui le persone cercano e trovano più spesso il mio canale è proprio il nome del mio canale, il che significa che nel settore ormai è molto conosciuto. E la stessa cosa sta succedendo con questo canale. So che se hai dei dubbi sulla piattaforma su una nuova funzionalità di YouTube, vieni su questo canale a cercare la risposta. Ecco quattro modi con cui puoi raggiungere lo stesso risultato. Se vuoi diventare un punto di riferimento per il tuo settore, prima o poi devi pubblicare quelli che sono i video fondamentali per il tuo settore. Ovvero le risposte alle domande più comuni, la spiegazione dei concetti basilari o le informazioni principali. Ti faccio degli esempi. Se come me avessi un canale di giochi da tavolo dovresti pubblicare le recensioni o i tutorial dei giochi da tavolo più famosi e più venduti di sempre, anche se sono giochi molto vecchi. Se hai un canale di grafica con Photoshop devi pubblicare anche un tutorial di base e una panoramica delle funzioni principali, non solo esplorare effetti particolari. Se hai un canale di cinema horror devi pubblicare le recensioni dei più famosi classici horror e pubblicare una classifica dei migliori horror di sempre. Può essere che tu non l'abbia ancora fatto perché tutti i canali simili al tuo avranno già fatto lo stesso video, ci sarà molta competizione su questi argomenti. E sono assolutamente d'accordo, può essere che quando pubblicherai sul tuo canale di yoga il video che insegna il saluto al sole, il più famoso esercizio yoga di sempre, questo video non avrà molte visualizzazioni perché ci saranno già altre centinaia di saluti al sole su YouTube. Però è un investimento per il futuro, perché quando il pubblico ti conoscerà, si affezionerà a te, anche attraverso i video più originali e più recenti, può essere che quando cerchi qualcosa di più generico, più basilare, comunque per prima cosa venga a visitare il tuo canale e si chiederà chissà se Sara ha fatto un video su questo argomento. Quando sarai la sua prima scelta vedrai che si alzeranno le visualizzazioni anche su questi video e sono video che continueranno a crescere nei mesi e negli anni a venire. Anzi, se qualcuno che segue il tuo canale cerca qualcosa di basilare, di famosissimo e non lo trova sul tuo canale, potrebbe anche restarci male. Come un canale punto di riferimento di questo settore non possiede questa informazione importantissima, non vorrai certo fare brutta figura con i tuoi fan. Non è assolutamente detto che tu debba pubblicarli come primi contenuti, puoi anche trovare del tempo in futuro per recuperare gli argomenti basilari che hai saltato. Ovviamente oltre alle basi ci vuole l'aggiornamento, quindi per restare un punto di riferimento devi essere anche sempre al passo con il tuo settore. Quindi riprendendo gli esempi precedenti devi anche pubblicare recensioni dei nuovi giochi appena usciti, devi commentare le novità degli ultimi aggiornamenti di Photoshop e devi recensire l'ultimo film horror adesso in sala. Per avere un numero costante di visualizzazioni è importante pubblicare quello che è rilevante per il tuo pubblico in questo momento. Non necessariamente qualcosa che è di tendenza, anche se sarebbe il massimo, basta qualche curiosità, novità, qualcosa che prima non si sapeva, qualcosa che hai appena scoperto. Avere un canale aggiornato è fondamentale per aumentare le visualizzazioni e per far sì che YouTube continui a proporre i tuoi video al tuo pubblico. Per farti notare e rubacchiare qualche visualizzazione ai tuoi competitor devi essere unico, devi trovare la tua strada e la tua unicità. È chiaro che se pubblichi lo stesso identico video che hanno già pubblicato tanti canali simili al tuo è difficile che le persone scelgano il tuo video, soprattutto quando hai ancora poco pubblico. Per far cliccare il tuo video puoi riproporre lo stesso argomento, ma con il tuo stile, rendendolo particolare, originale. Così le persone potrebbero scegliere il tuo video perché si sentono in linea con il tuo stile, perché a pelle apprezzano come ti poni. L'unicità può essere data da tante cose, non significa necessariamente fare qualcosa di mai fatto o dire qualcosa di mai detto, anche perché su YouTube è molto difficile. Ma devi pensare a quali sono le tue caratteristiche, che cosa ti contraddistingue, quali abilità hai, per quali pregi ti fanno i complimenti i tuoi amici e conoscenti. Ad esempio se sei una persona istrionica, ironica, il tuo canale avrà questo tipo di personalità e così anche una recensione di un utensile da cucina può diventare un video divertente costellato da tante gag. Oppure se sei una persona che ragiona molto, che ama i dati e le statistiche, potresti portare sul canale dei video ben studiati, ben supportati da dati e ricerche. Ad esempio invece di fare un test drive su due macchine e spiegare la sensazione che ti dà guidare con due pneumatici diversi, potresti fare un video al computer in cui mostri la tua ricerca che confronta molti più modelli di auto e pneumatici per stabilire dati alla mano quali sono i migliori. È un video meno di intrattenimento ma può essere un video molto più utile perché hai fatto una ricerca e hai portato dei dati che le persone da sole non avrebbero trovato. Ognuno poi ovviamente sceglierà il tipo di video che preferisce. La tua unicità e il tuo stile è quello che farà sì che le persone sceglieranno sempre il tuo video piuttosto che quello di altri canali. Anche la specificità ti aiuterà ad aumentare le visualizzazioni e a far tornare le persone sul tuo canale. Ciò significa che se tieni troppo ampio il tuo argomento rischi di attirare un pubblico generico, diverso da video a video. Magari farai tante visualizzazioni su qualche video, avrai molti spettatori nuovi ma pochi spettatori di ritorno perché non tutti i video saranno rilevanti per chi è passato per il tuo canale. Ad esempio se hai un canale di giochi ma oggi parli di un gioco da tavolo, domani parli di un videogioco, il giorno dopo parli di un gioco di carte, il giorno dopo ancora di un giocattolo, possiamo dire che hai un canale di giochi ma non stai parlando sempre alle stesse persone perché le persone hanno interessi e passioni molto molto specifiche. Anche chi ama il cinema ad esempio non va a vedere qualsiasi film ma avrà un genere o un regista che preferisce. Quindi diventi un punto di riferimento per un gruppo di persone solo se parli della loro passione specifica. Tornando all'obiettivo di questo video, se vuoi cercare di far esplodere un video potresti provare di parlare di tanti argomenti generici e diversi, ma se invece vuoi aumentare la base di visualizzazione di tutti i tuoi video allora dovresti scegliere un argomento molto specifico. Le persone devono sapere che possono tornare sul tuo canale per trovare sempre video dedicati alla loro passione. Ad esempio immagino che tu sappia che lunedì prossimo uscirà un altro video su questo canale che ti sarà utile perché ti spiegherà come usare meglio youtube, come crescere su questa piattaforma. A proposito se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale così riceverai la notifica non appena uscirà il video. E perché sai questa cosa? Perché con tutti i miei video precedenti ho rafforzato in te questa consapevolezza. Sei sicuro ormai che parlerò solo di questo argomento e che i miei video ti saranno utili. Con questa strategia di contenuti aumenterai piano piano la base di visualizzazioni dei tuoi video, ma ci sono anche dei trucchetti molto semplici con cui puoi velocizzare il processo. Ad esempio questo consiglio con cui puoi aumentare del 20% le visualizzazioni del tuo prossimo video.